Nuovo amministratore di Alba al posto del manager Luigi Giampaolino e il 48enne ingegnere di Bellizzi Palmerino Belardo. Un cambio voluto dall'amministrazione francese per risollevare la società Alba alla partecipata del comune che oltre all'igiene urbana ha anche la manutenzione. La decisione è presa nella stanza della prima cittadina dove si era riunita l'assemblea dei soci con la presenza oltre che della sindaca anche del suo vice Stefano Romano e dell'assessore al bilancio Gabriella Catarozzo. L'assemblea ha ratificato la revoca di Giampaolino annunciando l'arrivo di Belardo, ingegnere del comune di Bellizzi.